Musica Bella pena Cosa? Guarda! C'est un avatars qui ne saura pas? Quelle est-ce? Quelle est-ce? Eh? Non c'est mal, eh? C'est un avatars C'est un avatars C'est un avatars C'est un radio C'est un avatars 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 Monique, combien je dois en éplucher? Ça dépend combien il y en a Alors? Alors, alors, je compte Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une courgette Ah non, non, ça c'est un concombre T'es sûre? Ah ben oui, je suis sûre, ça n'a pas la même gueule ni la même odeur On baisse alors, on va Ouh, laissez, je m'en occupe, va D'accord, ma béquette, tu veux que je fasse autre chose? Oui, va plutôt apprendre à reconnaître les légumes, va Hein? Ça nous servirait Ok, je vais, je vais, là Qui n'est ben ça? Dégoroso Salut Non, ben non Je vais vous déchirer Alors, vous voulez la médaille du mèze? Il faut de la médaille du mèze, non? Il faut de la médaille du mercat, non? Non, je suis toujours dans cette courte Donc j'ai eu un éleux, car j'ai eu un éleux Je vais vous faire des conseils de mcoures Ah oui, comme la semaine dernière Qu'est-ce la semaine dernière? Eh bien la semaine dernière Je le soutien à belle éleux Je vous déchiré un éleux Je vais je suis à Saint-Mille, madame Cosa dici? Un libro non t'ha spada. Ah, l'avanti ultimo andito. Dirà l'ultimo. Che ultimo? L'ultimo è stato Jojoo. Come? Non ti ricordi quando hai chiamato la macchia, armi e mano, con tutti gli andarmati presi? Ah! Bolidi, il giorno che tu sei perso la caccia, che è giunto certo che il gendarme arriverà da cercati. E allora... Un era macchia, armi e mano, con cui il gendarme presi un era. E allora, un nuovo andito qui? Andito è che... e... e... agacce radiosa. Oh, Luisa! C'è sempre il spettacolo per il barro di Mimì. Ha già pensato a una vola di vate. Si chiama Cinderella 2.0. E l'ha già da scrivere io. Ah, che ti dà olio, è sicuro. Aspetta! Cinderella è una influenzosa. Allora, come c'è un paese come qui? Cinderella è stata priva di screni dopo la sua nascita. C'è una matrimina? È veramente pessima questa matrimina. Ma un giorno, fin da politica. C'è un telefono e la carta di banca è pessima. È sicuramente un paio di scarpi per andare a balai e una roda di principessa. Dopase, guita agono c'è un principe, un ballo, un scarpi. È... È basta. No! Bolte in paese. Chacu contratto non tu capo di amatrigna. È contazovita non t'internet. Così diventa l'influenzosa più laicata di un mondo. Géniale, no? È proprio la parola che c'è il cao. Non! La parola che il canale è un'influenza. Perché? Perché sono pince? Non, perché sei sempre stato nulla al foot. Non, non, non sono molto leggero non più. Non ne v'en fai mai perché il livello generale non è incredibile. Beh, eh bien... Aller, ok, io vienerai volontiersi. E poi, se non sono il solo a giocare come un piede... Come un piede? Au footballe? Ha, 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 c'è drolo, eh? Ha, c'è drolo! Si, se volete... Si, se volete... ...on se revoit a l'entraidement. Ha, 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 ha. Le pied de footballe. Bon laser. C'est comme pas mal, ça. Mmmh. C'est bien gentil, de ta part. Eh, beh, oui, dis, tu as vu son physique de crevette? Grâce à lui, je ne veux plus être le joueur le plus inutile de l'équipe. C'est lui, maintenant, qui va se faire ma gagner. Mais lui, il est docteur. Il pourra toujours soigner les blessés. Qui a trouvé plus nulle que toi, mais pas aussi inutile. Ha, ha, ha. Grazie a tutti